Giorni di grande apprezzione, pandemia totalizzante, in molti hanno riscoperto la preghiera. Le pandemie del resto hanno sempre spinto nel corso della storia appunto alla preghiera e allo sguardo rivolto al cielo, col cristianesimo che annovera alcuni santi considerati salvatori dalle epidemie. Incredibile la coincidenza che vede Santa Corona come colei a cui appellarsi, Santa Corona contro il coronavirus, incredibile. La sua figura è legata a San Vittore col patronato di Otricoli, vicino Terni, Feltre, provincia di Belluno, Castelfidardo, Rivalta di Torino, Castelminio di Resana, Canepina, Monte Romano, Vallerano e della diocesi di Belluno-Feltre. Vittore, secondo la tradizione, era un soldato romano del II secolo d.C., martirizzato per non aver rinnegato la sua fede cristiana. Corona era invece la moglie, non ancora sedicenne, di un compagno d'armi di Vittore. Anche Corona fu sottoposta a torture e poi uccisa. Altri santi influenti contro le pandemie non mancano. Santa Rita curò i malati di peste nel lazzaretto di Rocca-Porena, vicino Perugia, mentre il santo protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie per eccellenza è San Rocco, che attraverso l'Italia curando e confortando gli appestati. In Abruzzo sono tante le chiese e i santuari a lui dedicati. Le invocazioni contro la peste e le pandemie si rivolgono anche a San Michele Arcangelo, Sant'Antonio Abate, San Cristoforo e San Sebastiano, quest'ultimo perché le ferite causate dalle frecce di cui fu trafitto nell'iconografia classica sono paragonate ai buboni della peste. E allora, mentre medici, infermieri e tante altre categorie sono tutte insieme impegnate in uno sforzo immane, per tutti gli altri sono consigliate anche le preghiere, restando ovviamente a casa.